Torna il Giulio Cesare di Shakespeare, William Zola, un appuntamento importante, ormai diventato tradizionale per quanto riguarda il teatro nella nostra città, un'opera importante che molti ricordano con piacere. Sì, anche perché il Giulio Cesare è uno degli snodi importanti della nostra cultura, della nostra civiltà, sia storicamente che culturalmente e eticamente. William Shakespeare ha fatto un capolavoro, prendendo a modello questa prima storia romana che lui ha scritta alla fine del Cinquecento, per sottolineare ancora una volta quelle che sono le problematiche che riguardano il potere, l'ambizione umana, la scelleratezza e le miserie, e soprattutto spirituale di chi non ha un'eticità importante. È un nuovo allestimento al chiuso, l'abbiamo proposto quest'estate a Villa Sabucchi, ovviamente, lo riproporremo probabilmente anche nei quartieri della città, un po' più avanti, in collaborazione con la LAD del Compiando Gianni Corva, del Teatro Stabile d'Abruzzo, degli attori della Torre del Bardo, e ha curato con me Margherita Cordoba il testo, la riduzione, l'adattamento. Quindi, diciamo che è un lavoro rivolto soprattutto ai giovani. Io ho questa ambizione, questa speranza che i giovani non dimentichino, non trascurino il teatro, correndo dietro ai cellulari e ad altre diavolerie tecnologiche, perché, diciamo, è un rapporto diretto con lo spettacolo. Cioè, l'attore e il pubblico sono imprescindibili, no? E quindi c'è questa simbiosi, ed è bello passare un paio d'ore insieme ad altri esseri umani, non un mezzo meccanico. Tra l'altro, tanti giovani parteciperanno a questa esibizione teatrale e tanti ragazzi interpreteranno i vari personaggi. Sì, appunto, noi abbiamo una compagnia molto giovane, vedete che sul cartellone ci sono i nomi degli attori e delle attrici, appunto, Silvia Napoleone, Giuseppe Pomponio, Franca Arborea, Luigi Ciavarelli, queste sono un po' le colonne della Torre del Barri. Poi ci sono un gruppo molto, molto quotato, molto bravo di giovani che hanno voglia e desiderio di fare teatro e che continueranno a lavorare con noi, quindi anche qualche debuttante, le musiche originali del maestro Taglietti, la scenografia di Elisabetta Vailardi. Insomma, voglio dire, è un'operazione, un'impresa importante che ha costato sudore e fatica e quindi io mi auguro che ci sia un riscontro bello da parte del pubblico di Pescara e dell'Abruz perché è un lavoro che, oltretutto, non viene allestito così frequentemente fra i grandi capolavori di Shakespeare, il Giulio Cesare, insomma, è una chicca e quindi viene rappresentato con molta parsimonia.